Non ne possiamo più della violenza dei centri sociali, non ne possiamo più di gente che pensa di poter fare tutto quello che vuole solo perché è coperta e coccolata dagli amici della sinistra nelle istituzioni. Solo nelle ultime settimane i centri sociali hanno picchiato un disabile che aveva la grave responsabilità di indossare una bandiera tricolore. Hanno pestato in branco un brigadiere dei Carabinieri che guadagna 1200 euro al mese per garantire la nostra sicurezza. Loro che il problema di lavorare non ce l'hanno perché sono tutti figli di papà, non paghiamo delle contestazioni alla sottoscritta perché siamo abituati, sputi, lanci di bottiglie, calci alla macchina, insulti di ogni genere. Non parliamo di quando hanno inneggiato al martirio delle foibe, alle migliaia di italiani uccisi dai partigiani comunisti del maresciallo Tito alla fine della seconda guerra mondiale. L'ultima perla che ci regalano questi fenomeni dei centri sociali è che adesso quando organizzano le manifestazioni lanciano delle bombe ripiene, ripiene di chiodi, ripiene di piazzi di metallo che si conficcano nella carne soprattutto degli agenti delle forze dell'ordine che cercano di sedare le devastazioni di questi criminali. Basta, basta. Quando andremo al governo i centri sociali responsabili di atti di vandalismo e di violenza li chiudiamo e facciamo una bella legge per l'arresto in flagranza di chi devasta e manifesta col volto coperto.